Al quinto posto, abbiamo la kit 3. Telecamere video sorveglianza wifi. L'nvr si connette con le 4 telecamere tramite wifi, coperture di circa 50 m o 10 m in presenza di muri, ma non include un hard disk, che deve essere acquistato separatamente, o servizi cloud. L'installazione e l'installazione sono ancora una volta semplici e indolori. Basta collegare l'nvr al router wifi e montare le telecamere, che sono alimentate via cavo, e ad un monitor tramite cavo dmi se si vogliono vedere le registrazioni. Le telecamere da 2MP forniscono una risoluzione FHD 1920x1080p, visione notturna fino a 15 metri, 36 leda infrarossi, e un angolo di visione di 80 gradi. Al numero 4, abbiamo Foscam FN3104W Wired e wireless. Foscam è un marchio noto che produce fotocamere intelligenti e non intelligenti. Il sistema di videosorveglianza FN3104W include 4 telecamere wifi e un registratore video di rete, nvr, che può essere collegato a un router tramite cavo etherne e a qualsiasi monitor tramite dmi. È incluso un disco rigido da 1TB, che dovrebbe consentire circa 14 giorni di registrazione continua. Inoltre, L'nvr può ospitare un disco rigido fino a 4TB. Le telecamere wifi hanno una risoluzione di 1280x720p e sono plug and play, il che significa che iniziano a registrare non appena vengono collegate all'alimentatore. Hanno un angolo di visione di 62 gradi e una visione notturna fino a 20 metri, 30 LED infrarossi integrati. Al terzo posto, abbiamo la ANCHE WL400 Wifi 4CH5MP NVR. ANCHE WL400 è uno dei migliori kit di videosorveglianza wireless con monitor. È un sistema di sicurezza NVR, network video recorder, a quattro canali con display LCD da 12 pollici, 1080p, è antenne per aumentare il segnale wifi, rendendolo una scelta pratica per le persone che desiderano monitorare in tempo reale mentre a casa, a lavoro o in negozio. Questo ha un disco rigido da 1TB integrato, sono disponibili anche versioni con capacità di archiviazione maggiore fino a 4TB. Naturalmente, il kit wireless può essere controllato tramite un'app, che consente di programmare i tempi di registrazione e attivare l'allarme integrato nel NVR. Al numero 2, abbiamo il EZWID C3A 1080p Telecamera. EZWID C3A è un altro nome noto nel settore della sicurezza intelligente e offre una varietà di kit di videosorveglianza wireless. Una delle più affidabili è quella composta dalle fotocamere EZWID C3A. C'è la possibilità di acquistare un sistema a due o tre telecamere, oltre a telecamere extra, la stazione ne supporta 6. Queste fotocamere da 2MP possono essere utilizzate anche senza la stazione base in dotazione, EZWID C3A VD2. Collegandoli alla stazione base, che, a sua volta, si collega al router di casa, consente di risparmiare molta durata della batteria. La batteria interna è una batteria a litio ricaricabile da 5500 ma che garantisce fino a due mesi di autonomia a seconda dell'utilizzo. Nella stazione base è inclusa anche una sirena da 100 dB. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Arlo WMS 3130 sistema. Quelli di Arlo, noto brand Netger nel campo della sicurezza intelligente, sono senza dubbio tra i migliori kit di videosorveglianza wireless Wi-Fi. Diverse opzioni sono disponibili presso l'azienda. Il kit Arlo WMS 3430 100 EUS è la soluzione più semplice con quattro videocamere, ma se il denaro non è un problema e desideri funzionalità più avanzata e una risoluzione più elevata, ci sono molte opzioni, come Arlo Pro 3, 2K, e Arlo Ultra, 4K. Questo sistema include una stazione base che si collega alla rete, modem Wi-Fi tramite cavo Ethernet, oltre a quattro telecamere alimentate a batteria agli ioni di litio. Inoltre, offre la possibilità di acquistare telecamere aggiuntive, Arlo WMS 3030. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale per i video,